Aspetta fermi tutti Cioè scusate eh Questa è la situation dentro Questa è la situation fuori Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Ragazzi oggi farò 24 ore dentro un igloo Guardate un po' cosa abbiamo costruito Un igloo gigantissimo E io qui dentro ci dovrò vivere 24 ore Sarà bellissimo, divertendissimo E iniziamo Venite vi porto 24 ore con me Entriamo dentro nel mio igloo Ok Ok ragazzi siamo dentro Come prima cosa mi tolgo il mio zainetto E lo mettiamo qui Allora partiamo a fare il room tour del mio igloo Allora qui c'è il letto Con tutti i fiorini bellini bellini Poi Qui C'è il mio carione bellissimo di Natale Il pinguotto Il pinguotto bellissimo E una lampada E una lampada Poi abbiamo il cubotto foffoso Con sopra l'alberello Che dopo decoreremo con i pikmi pops Poi qui abbiamo il mio zainetto Lasciamo stare E ho messo la OMG crystal Bellissima Che se poi volete andare a vedere il video Dopo questo Ve lo lascio qui in descrizione Poi abbiamo un altro cubotto Sempre foffoso E qui abbiamo tutte le cose da mangiare Buonissime e bellissime Però Ok E questo era il mio igloo Ok ragazzi Adesso vi faccio vedere cosa ho messo dentro il mio zainetto Allora Come primissima cosa Ho messo il mio diario Della volpe Che ho preso Nei centri con me In un centro commerciale Nel centro commerciale di Milano Vulcano Oddio E' bellissimo Ha un lupetto E' una volpe E' un fuffosetto Poi 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 Ho messo due penne Questa qui E questa qui Arrenna Arrennetta Questa che è a scatto E ha due colori Si abbassano le orecchie E poi questa è normale Ed è cicciotta E' bellissima Una penna fantastica Poi 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 Abbiamo Un pacchettino E poi c'è un minutino Che ho scritto Da aprire Dopo L'unboxing E sotto c'è scritto Pepita Uffo Ok E' un po' strano Però Ok Poi abbiamo La nocina E poi abbiamo Il selfie stick E questo era tutto Quello che c'è dentro Il mio genetto Però adesso Rimettiamo tutto dentro Che sennò C'è un po' di disastro Portato un po' Tante cose Però ragazzi Però ragazzi Se nel fogliettino Sopra il pacchettino C'era scritto Dopo l'unboxing Vuol dire che faremo Un unboxing Wow Che bello Però Adesso Decoriamo l'albero Oh bene Prendiamo questi Pikmi Popsini Ah Profumati Si E li mettiamo Sopra l'alberello Questo lo mettiamo qua Poi prendiamo L'uccellino Che vola Qua Vola qui Tuturupupu Aspetta Poi Dino Sennò Lui Non si vede Poi mettiamo Questo qui Ah Che buono Tuturupu Ah E poi ragazzi Voglio far suonare Questo Guardate che bello Guardate che bello Tuturupu E nel ventre Decoriamo l'albero Ehi Tu piccoletto Vivi qui? Oh Mi piace il freddo Ok Perfetto Abbiamo decolato Tutto l'alberello Ragazzi Ma Siccome siamo In un igloo E gli igloo Sono al polo nord Al polo nord Chi ci vive? Babbo Natale Quindi Siamo vicini Al natale Perciò Lo incontreremo Beh Oppure Sarà troppo impegnato A fare Tutti i giocatori Io gli ho chiesto Quattro cose Però Adesso È arrivato il momento Di mangiare Cosa si mangia Al polo nord? Questa cosa Così Ci sono Un po' Di spifferi Qua e là Tipo Qui Che mi si passa Attraverso la mano Però Va bene Cioè Si sta bene Adesso Io Però Mangio Che Ragazzi Ma il polo nord Va via La luce Com'è Sto 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 Ehi Non va bene Sai Guardate Che buffo Questo effetto Babbo Natale Starà bene I suoi elfi Si saranno Spaventati Meno male Io ho la mia Torcia Ok ragazzi Adesso È arrivata L'ora Di mangiare E credo Di mangiare Un bel panino Poi un po' Di frutta Poi un po' Di frutta Un bel Buon Buon Panino Tonno Guardate Tonno Giustamente Mi è andato bene Ci potevano essere Sardini Che buon panino Con il tonno Ci sta bene Aspetta Ma Secondo voi Cosa mangia Babbo Natale Boh Secondo me Mangia I dolci I biscotti Dei bambini E tante altre cose Che le rende Mangiano I bastoncini Di zucchero Non state a guardare Quello spiffero Lì Perché è un altro Dei tanti spifferi Buono Questo panino Adesso Si beve Dalla mia bottiglia Con i fenicatteri Basta ragazzi Questo lo lascio Per dopo Adesso mangio Una mela Perché Come dice il letto Una mela al giorno Toglie il ventico Ditorlo Perché Tutta fa bene Ragazzi Ho finito di mangiare Ma avete sentito Questo rumore Di neve Eh sì Sono dentro C'è una consegna Wow Guardate ragazzi È arrivato Questo Questo pacco Che ho scritto L'ho scritto Winter disco È grossissimo Apriamolo Allora Ce l'ho Qui Come lo posso Aprire Ecco Ecco Si sta aprendo Ok Oddio Come sto vedendo No ragazzi Aspettate C'è una marea Di palli Mamma mia Oddio Ma Sono tutta Impallinata Aspetta Fermi tutti C'è Scusate Eh Questa è la situation Dentro Questa è la situation Fuori Allora Aspettate C'è C'è Un velo Pieno Di palline Facciamo La discoteca Uh Tutto è Pallinato Oddio Aiuto Mamma mia Scusate Aspettate Un attimo Ma Come faccio Poi A dormirci Io C'è Vabbè Poi vedremo Ma Aspettate Da questa Varee Di palline In questa Oddio No Aspettate Ragazzi Stiamo calmi Tutto pieno Di palline Ma A parte Quello Va bene Allora Qui dentro Guardate Ragazzi Una LOL Winter Disco Guardate Che bella Dopo L'apriamo Subito Poi C'è Altro Oh Sì C'è Altro Un Pet Winter Disco E Una Lil Winter Disco E Guardate Ragazzi Se Ce Ce Le abbiamo Tutte E tre Come Nel Nostro Caso Potremmo Fare Un Pupazzo Ora Vi Faccio Vedere In che Condizioni Allora Postino Portati Via Questa Questo Pacco Che non Lo voglio Più Vedere Pieno Di Pallissime Vai Via Pacco Pacco Vai Via Ok Siamo Tutte Piene Di Palline Guardate C'è Io Non Dovevo Finire Così Ma Sono Finita Così C'è Guardatemi Cosa Faccio Adesso Ok Ma A parte Quello Abbiamo Una LOL Un Pet E Una Lil Una LOL Una Lil E Un Pet Winter Disco Perciò Adesso Apri Le apriremo Queste Sono Le prime Che Apro Le prime Primissime Winter Disco Che Ho E Subito Subito Potrò Fare Un Pupazzo Però Iniziamo Subito Aprendola LOL Winter Disco E' Da Tanto Che Non Apriamo Delle LOL Sul Canale Comunque Guardate Che Bella La Ball Ci Sono Dentro Tipo Dei Brillantini No 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 Fermi Tutti Si Aperta Da Sola Conserviamo La Bolla Che Poi Ci Servirà Per Il Pupazzo Vedete Che Si Può Fare Il Pupazzo Guardate Che Bella La Checklist E Benvenuta E Benvenuta A E Mamma Mia E Basta Perché Sceglie Non La Toglie Da Dentro No Lì Si Staccata La Testa E Ragazzi Benvenuta A Princess BB Wow Ragazzi Guardate Che Bella Alla Shillingham E Ha I Capelli Fantastici Ok Ragazzi Eccola Qua Dreaming BB Guardate Che Carino Ok Adesso La Mettiamo Qui E Apriamo Il Pet Togliamo Un po Tiri 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 Wow Che Bello è meraviglioso ma scopriamolo a questo punto si sta scoprendo io ho fatto la sala guardate è il cucciolo è tutto un po' bagnatino è il cucciolo di riptide ma wow oddio la codina poi le dobbiamo scoprire il corpo guardate ma come fate è bellissimo ecco non è successo niente poi le dobbiamo un'altra cammina un'altra cammina l'altra cammina ecco qua il cucciolo di riptide però adesso dobbiamo decorare il pupazzo ragazzi l'ho decorato ho fatto la prima faccetta e l'ultima faccetta e questo è il mega pupazzone super mega pupazzotto super che può sparare la neve ma ragazzi vi ricordate che noi dovevamo aprire la cassetta che ho scritto pepita hop ebbene si eccola qui adesso la apriamo anch'io giustamente sono molto curiosa di vedere cosa c'è quindi apriamo fermi fermi allora ve la faccio vedere così scopro cosa sono e ve le faccio vedere ragazzi ho scoperto che sono i piedini per le lol i piedi stalli finalmente per le lol adesso li apriamo e li riproviamo e dentro ci sono tantissimi piedi stalli adesso guardate ve ne faccio vedere e ne vediamo guardate guardate cosa fantastica guardate cosa bella ci sono di tanti diversi colori lilla rosa azzurro se volete tenere in piedi su due zampe il pet potete farlo e poi ci sono di tantissimi colori ragazzi questo unboxing è stato bellissimo però è stato lungo è stancante ma sarà notte sarà giorno perché qui a Polonardo ci sono sei mesi di giorno e sei mesi di buio perciò sarà notte sì perché c'è sempre il sole perciò è notte vabbè guardate ragazzi io devo dormire in mezzo alle palline perché ci sono un secco di palline guardate io dormo in questo letto qui dormo ecco dormo in mezzo a tutto il palliname però ci si sta bene vedete ragazzi c'è una luce pazzesca però boh non si sa mai se è notte se è giorno se è giorno se è notte aiuto ragazzi anche al Polonardo c'è l'aspirapolvere perché se no oh sta calma non si resiste quindi aspettate vi piazzo così voi restate fermi in un punto restate fermi qui voi ok e mentre io pulisco ragazzi cosa fate dovete restare lì scusa pupazzetto ma anche tu ok ragazzi guardate guardate è tutto pulito e finalmente dopo tante ore di lavoro bisogna riposarsi no? mi sono meritata un premio adesso li metto qui e ragazzi spero non che questo video vi sia piaciuto mettete like iscrivetevi al canale youtube attivate la campanella din don din don e ciao alla prossima ciao ciao